Comincio stendendo la base sublimatrice numero 24 a base di olio di avocado e acqua di rosa, una tinta leggermente scintillante che illumina l'incarnato e contrasta il colorito spento. Poi proseguiamo con l'Hydra Jeunesse, un fondotinta fluido anti-age adatto a pelle matura, effetto seconda pelle, conferisce un finish luminoso e iperlevigato. Poi applico il trattamento per le labbra a base di burro di karité e olio di ricino. Correttore 07 color caramel, poi applico la cipria invisibile a base di olio d'argan, nocciolio di albicocca e mica, che è una polvere compatta, ultra sottile. Utilizzo la contouring palette per scolpire un pochino il viso, a base anche questa di olio di argan, non fa effetto polveroso, non fa macchia, si applica un pochino alla volta e in questo caso ho utilizzato il colore più scuro per andare un pochino a snellire il viso. Ho utilizzato poi il colore più chiaro per andare ad enfatizzare le zone più in luce del viso. Vado ad applicare la matita nera color caramel, che è a base di cera d'api, burro di karité, olio di semi di ricino, anche qui olio d'argan. Utilizzo la palette di ombretti numero 2, con le tonalità fredde. Inizio con il numero 104, che stendo su tutta la palpebra mobile, perlomeno sulla metà della palpebra mobile, con il pennello leggermente sporco, vado anche sotto l'arcata sopraccigliare. Poi prendo il numero 111 e vado sulla piega dell'occhio. Infine il numero 100, che applico nell'angolo esterno dell'occhio e anche un po' sotto l'arima cigliare inferiore. In questo punto, quindi nell'angolo esterno, vado ad applicare il numero 81, che è il marrone intenso, matt. Lo applico anche sotto l'arima cigliare inferiore. Poi con la matita nera che ho utilizzato prima, vado ad intensificare l'angolo esterno dell'occhio, per rendere ancora più intenso l'effetto. La matita nera l'ho applicata anche in fraccigliare all'inizio del trucco, la applico nella rima interna superiore e anche sotto all'occhio, nella rima cigliare inferiore, per dare ancora più intensità al trucco. Utilizzo la matita per sopracciglia numero 20 e spazzolo bene le sopracciglia anche per togliere i residui di cipria e fondotinta. Terra mosaico 33, per dare un effetto un po' più bronzato all'incarnato. Fard numero 57, sempre color caramel, che è uno dei miei preferiti. Matita labbra è la numero 10. Il rossetto è il numero 279, morbidissimo e molto idratante, eppure molto duraturo. Gloss 808, Mascara Revolution color caramel, che è il top del momento per noi. Aggiungo un po' di fard, sempre color caramel, il numero 51. E il trucco è finito. Alla prossima!